Torricelli in lotta con Ronaldo, c'è anche Samorano che entra in area, Ronaldo si allarga, body check su di lui, Juventus allontana contro Torricelli, Massimo. No, per me non è da calcio di rigore. È entrato in campo anche Soni, ma non si può, non so se le immagini ce lo mostrano, Simoni è 15 metri dentro il campo, eccolo qui. Esatto, esatto. Intanto dalla parte opposta c'è un fallo, calcio di rigore per la Juventus, qui succede di tutto. Queste sono veramente delle reazioni allucinanti. Calcio di rigore per la Juventus. Sono veramente delle reazioni allucinanti. Calcio di rigore per la Juventus.